ciao benvenuti sul mio canale youtube e adesso vediamo insieme come eseguire questo questo pane questo filone di pane seguitemi allora ho preparato tutto questa è la mia pasta madre ne ho rinfrescato un pezzettino da usare per panificare rinfrescata 5-6 ore fa questa è la farina userò la farina di tipo 1 del molino cipolla e la simola rimacinata pugliese ho preparato l'acqua e il sale adesso metto in autolisi la farina quindi ci metto più della metà di acqua e ne metto tanta fino a che non si bagna bene la farina deve essere tutta inumidita quindi non ci deve non deve rimanere potete fare anche a adesso ho usato la foglia man mano potete fare questo passaggio quindi faccio inumidire per benino la farina poi poi come vedete è rimasta poca acqua poi copro e lascio minimo mezz'ora quindi può essere mezz'ora 40 minuti anche un'ora volendo è così inizia il processo di fermentazione bene quindi passato passato il tempo vado a mettere la pasta madre a pezzettini vedete l'avevo già preparata pesata e ce la metto a pezzettini se volete usare licoli basta usarne di meno se volete fate la conversione però basta metterne un pochino di meno invece che so invece di 100 ne mettete 80 per proporzione e un goccino meno di acqua perché licoli essendo liquido quindi ci andrà meno acqua se volete potete fare così ma se volete la precisione prendete una tabella ve la metto sotto adesso quando farò il video di conversione così lo fate con precisione e allora continuo a girare finendo di mettere l'acqua piano piano qui adesso ho fatto qualche taglio però giro per almeno dieci minuti quando si è amalgamata bene quando si è amalgamato bene l'impasto spengo anzi scusate metto prima il sale il sale lo mettiamo dopo aver girato un pochino come al solito e poi spengo e verso l'impasto sul piano di lavoro lo lascio riposare una quindicina di minuti prima di riprenderlo come vedete non serve aspettare l'incordatura perché poi lo lavoriamo e quindi prenderà la consistenza giusta vedete ancora un pochino granuloso e appiccicoso mi bagno le mani con l'acqua e lo lavoro così ecco qua piano piano diventerà più liscio e setoso ok e poi mi sono preparata la ciotola dove ho messo un goccio di olio eccola qua ci metto dentro l'impasto e lo lascio lo lascio un'ora ma anche due ore lo copro naturalmente a temperatura ambiente questo pane lo farò in giornata e una volta vedete si è adagiato si è si vede che è cambiato è cambiata la struttura faccio quest'altre pieghe così in ciotola lo alzo lo piego così però se volete potete fare le classiche pieghe che si fanno in ciotola io questa volta procedo così e adesso lo copro e lo lascio lievitare per 3 4 ore dipende dalla temperatura come sapete ed eccolo qua passato il tempo vedete è cresciuto è cresciuto non tantissimo però si vede che è cresciuto ed è ben lievitato quindi adesso ci faccio un passaggio di pieghe tipo una preforma così vedete è bello bello lievitato sì penso ci farà soltanto un giro di di pieghe pieghe a tre così potete farne anche due io ne ho fatta una perché perché ho fatto questa pieghe ho coperto e invece di aspettare la mezz'ora anche un'ora e l'ho dimenticato non so che stavo facendo forse stavo guardando la tv quindi l'ho lasciato più di un'ora e a questo punto non faccio un altro giro di pieghe può succedere quindi vedete dai miei errori magari potete prendere spunto quindi ho fatto soltanto quel giro perché lo vedo bello e lo posso formare insomma bello bello pimpante diciamo così quindi vado subito a formare questo filone tanto poi dovrà stare ancora almeno un paio d'ore di lievitazione ok la temperatura si è abbassata non fa assolutamente caldo quindi può stare ecco perché può stare anche più a lungo allora piego bene così attacco aiuto bene è molto morbido è molto ben idratato lo sento ancora leggermente che appiccica vedete ci metto la semola e poi non lo metto nel cestino perché è bello lungo il mio cestino è leggermente più corto ho preso questa teglia che ha i bordi un pochino alti la teglia del forno ne ho due in dotazione quindi lo appoggio così sotto ho messo la semola lo metterò anche sopra e lo copro lo copro poi per non farlo allargare vicino ci metto un cestino che lo stringe così non si allarga non si allarga e cresce cresce in altezza se avete un cestino così lungo mettetelo ecco qua bene lo copro ancora e lo lascio lo metto nel forno se fa freddo accendo un pochino la lucina ma un pochino non serve tanto e aspetto la seconda lievitazione a dopo ed eccolo io direi che è pronto da infornare sono passate all'incirca un paio di ore e ho preparato io procedo allo stesso modo però voi se avete altri metodi tipo la pietra io faccio scivolare sulla teglia che sta in forno ho acceso già il forno il forno è ben caldo uso questa pala anche se questo filone è un pochino lunghetto cerco di posizionarlo per farlo entrare e poi se ci sono difficoltà conviene mettere la carta forno sotto in modo che poi si alza e si fa scivolare nel forno vedete mi lascia un pochino fuori però sono riuscita lo stesso a mettere i tagli scusatemi i tagli non li ho fatti prima perché era morbidissimo ho aspettato 5 minuti ho aperto il forno velocemente non ho potuto girare naturalmente per farvi vedere questa operazione velocemente con la lametta ho fatto questi tre tagli ed eccolo qua si sta alzando vedete perché dopo 5 minuti che avete messo già comincia ad indurirsi un pochino sopra quindi i tagli vengono bene ma deve essere fatta questa operazione velocemente ok eccolo qua dopo 45-50 minuti presto a poco adesso vi metto in descrizione il metodo di cottura l'ho messo in piedi per farlo raffreddare sentite come croccante prima di tagliarlo ho aspettato un pochino il pane dovrebbe essere freddo ma siccome per noi era l'ora di cena quindi è ancora tiepido quindi lo taglio però se aspettate è meglio perché si asciuga tutta l'umidità che è all'interno eccolo qua io direi che è venuto molto bene no? gli alveoli sono al punto giusto dentro è morbido come è da semola usando la semola dentro rimane un pochino morbido ma anche perché è caldo bene amici spero che il video vi sia piaciuto un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale